Nessuna persona è mai tutto vizio o tutta virtù. Anche il più ateo, in una situazione di vita o di morte, incrocia le mani e guarda verso l'altro, no? Siamo umani. Per me il recitare è stato veramente faticosissimo. Io ero incazzato nero con la malattia. Mi sono detto, Amart, non puoi fermarti qui, altrimenti muori, non torni a casa. Quando cadi e quando hai veramente i grandi dolori, nessuno ti può aiutare. Puoi farcela solo da sola. Dobbiamo restare fedeli a uno spirito, a un amore, questo sì. Dio non ama l'aggettivazione della persona, ama la persona. Peccatore, non peccatore, ma come è.